I panni sporchi si lavano in casa propria, peccato che io non ho una casa mia. La mia ragazza affonda con la cipria e spendo la fortuna e la banderia. Ma c'è una soluzione che mi gira nella mente, risparmio acqua, detersivo ed amor di dente. Mia madre fa la lavatrice e lava un mio di ricamice, sa fare nuove pantaloni e togliere i pallini dai maglioni. Qualcuno può chiamarmi bamboccione, ma senza questo stipendio risso che faccio io. Per un monolocale in locazione, mi ha chiesto 500 euro e un panettone piro. Ah ah, non è poi certo bello non avere indipendenza, ma senza uno stipendio. Punto sulla convivenza. Mia madre fa la lavatrice e lava un mio di ricamice, sa fare nuove pantaloni e toglie i pallini dai maglioni. Il mio padre non lo fa la stesa, ma vuole che trovi la mia sposa. Ci vuole un sacco di pazienza per leggere questa convivenza. La lavatrice mia madre fa la lavatrice, la lavatrice mia madre fa la lavatrice. La lavatrice mia madre fa la lavatrice, grazie.